Ecco, avete capito? Salute a tutti e benvenuti nel mio canale Siamo qui con Dife, il grande Dife Questa volta siamo nella missione che prevede lo sterminio degli abomini del vuoto Ah, e dobbiamo proteggere la fortezza del Sergente Hammer, il tizio che c'è su Heroes of the Storm Con il carro armato Oddio, è vero Dettagli Che difficoltà ho messo, che non mi ricordo Aspetta, eh Su nome c'è scritto, mio compare slash difficile Tu sei una persona difficile Io so, non è bene Ok Dife, un po' cominceranno a spawnare dei mostri mostruosi, mostruosamente mostruosi Io vado di Verminibus Vai Esplodono dal terreno istantaneamente Sì, ma sono Verminob, c'è Troppo fischi, c'è C'è Io fanno un... E poi spawnano Siete, wow, e vedi un verno spawnare dal torre Sì, dimmi quando lo fai che voglio vedere il... No, ma è il... è quello normale di ogni Verminibus Ah, ok Gente che si disconnette Esatto Chi è? No, era la mascotte Peccato Era quello... Eh Era la nostra macchina da views Esatto Prepariamoci che qua Per un po' succede il finimondo Dove spenne il bene insufficiente? Dove spenne il bene insufficiente? Quetta che roba Sentivo rumori molesti provenire dalla tua base Una base? Rumori del tipo... Ah, ok I soliti rumori da zerbi Oh, ok Eh, stanno arrivando Come stanno arrivando? I nostri nemici sono terra Rimani vigile I nemici sono terra? Wow, vedi stupido centurione, marali Marali Ma, marali Guarda che bastardi che micrano Ma seriamente? Il computer adesso... L'intelligenza artificiale micra Un abominio del vuoto è stato evocato Guarda... Guarda quell'idiota è dietro il pilone Non riesco a cliccarlo Ok, un abominio del vuoto è stato evocato Ecco ora comincia col bombardamento I vostri sforzi sono inutili Ok, perfetto Ah, perfetto cosa Che i nostri sforzi sono inutili E' efficiente Ho premuto non so cosa, ma... ok Sono tornato I'm back Adesso vediamo stupendo Un abominio del vuoto attacca l'obiettivo principale Un abominio del vuoto attacca l'obiettivo principale Un abominio del vuoto attacca l'obiettivo principale E dire di andare Andai io vado Eh, comincia ad andare, ti raggiungo Al massimo ti mando... Ti cacchio ce ne sono Ti mando mastery Questo mostro Ma mi sei glitchato Andiamo a salutarli Lo vedi glitchato pure tu Cosa? Io lo vedo bloccato in una posizione Sto tizio No Ah, ma... ma perché è bloccato? Perché non si può muovere No, bloccato nel senso con le braccia aperte Tipo... non fa gesti con le mani Eh, non lo so allora Ho messo la grafica al minimo Ma mi pare un po' esagerato Farmi il mostro fermo, cioè Abbiamo ucciso un abominio del vuoto Ozzarolla Guarda questi... Guarda questi come muo' i nostri marine Comparso Vediamo Pfff 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 C'è comparso un abominio del vuoto I tuoi alleati sono in battaglia Ok, ho finito tutti i Zergli Serve scorta di Zergli Tieni duro di fe Ah, il Retenairus, guarda Vado Vediamo Lo metto qua dove ci sono i Zergli Vado Vai È la miseria, è istantaneo Sì, sì È fantastico Cioè, al posto del biotumore uso questo Non costa risorse, infatti Colonizzi con quello E poi scarica in due secondi Sì Posso farlo ogni 30 secondi Se vuoi ce li puoi mettere dentro pure tu Figa E li entro dentro E li butto fuori Sotto i sorveglianti Ah, eccola là Quella cosa che ruota E Che schifo, se non vogliono entrare Se gli fa impressione Sono qui Fra le ombre Un abominio del vuoto è stato evocato Eh sì, un attimo Eh sì, un attimo C'è lì tu, eh Grande dife con la sua rete Capillare Stanno arrivando Stanno arrivando i tizi Ok, qua me la vedo io La vedi tu, allora io vado Fatevi sotto schiappe Chiappe E Ja GVP Easy L'obiettivo principale L'obiettivo principale è assediato dal Madominio del vuoto Qua Oddio, no, 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 no Siamo Nemico stordito, attaccate Saranno i carri d'assedio Mi sono cagato addosso Poveri Zergli Ancora Eh, infatti me ne stanno devastando Non preoccuparti di te No, poverina Terry Gunn dice che ha appena subito un duro colpo Ho capito, arrivo No Ma li stai rando Ma non è giro Ah, no Mastery Dai, ma c'è Mastery che è il nob champion Non puoi perdere Gatti Schiva, Mastery Forza Mastery Mastery Questi Mastery non solo sono Mastery ma sono pure tank Sono Mastery full tankardy Sono Mastery tankardy, infatti Mastery Adesso esplodono, guarda Ah no, si tipizzano via, non esplodono Cioè se ne vanno con delicatezza Tanto c'ho Kerrigan qui che attacca Ci sono due ondate Arrivo Due La base dei tuoi alleati è sotto assegno No, la colonia HOLY SHIT IA Oh merda Devo entrare nel verme Entra! Oh! Spawn ha ste bestie Ok, torniamo indietro Mi hanno fatto una del ponedicqua Di schifo Perché li stai facendo... Vabbè Non lo so Siamo un tutt'uno Però non è tanto giusta sta cosa I... Gli arconti oscuri si addestrano direttamente Non si formano dai tempari oscuri Arcangelo No? Ah, è antipatica quella cosa Che tu la attacchi da un lato e scappa dall'altro Gli ultimi tre? Il sotto attacca l'obiettivo principale Vuoi tu dall'arcando? Si ma tanto... Mi serve che tanto è là di lato Il nemico sta arrivando Spero che siate pronti Ma se faccio scarica tutto Scarica tutto Guarda uso il controllo mentale Sui carri d'assedio Ora sono miei Tutti miei vai Pure l'incrociatore vai Pure mio Basta tutto mio Il nemico sta usando unità occultate Ci servono individuatori Che se vuole Quanti sono? Ok faccio degli oracoli Traporto i miei custodi Arrivano gli oracoli Minchia Quattro Un abominio del vuoto è stato evocato Preparatevi Forze nemiche in arrivo Mio mio Questo è mio Quello è mio pure Quello è mio pure Voglio tutto Basta Ah ma c'è pure il cannone Yamato Pronto all'azione Obiettivo opzionale completato Tira via dall'altra parte E' un abominio del vuoto E' un giorno per morire Il nemico sta attaccando L'obiettivo principale Dobbiamo difenderlo Sì ho capito Io non ne sto addestrando Truppe Io vado avanti con la roba Che frego Allora Ho più roba Terran qua in mezzo Che Protoss Ok Perfetto Questo è il risponso Moveri Oh shit Caso C'è ma che c'ho tipo 6 frame al secondo E' una cosa incredibile Perchè? Non lo so perché Adesso la cosa che succede Sarà troppo epica Farò questo Oh mio dio E io farò questo E io invece Dove hai C'è? Oddio Cosa sono quelle? Un esercito di Tutto bloccato Diciamo che l'hai sprecata Perchè erano già bloccati Da me Quindi Attacco in arrivo Stati pronti Gli ho bloccati Era tanto per fare spettacolo Sì esatto Ci sta Ci sta Ma li posso controllare Sti cosi enormi Col controllo ventale Guardale stanno mangiando vivo Il coso Adesso vado su tutta Alla ciao Vediamo Che riga E' andata in ferie Guarda va tutto a fuoco Stava per esplodere Sivello Di 9 10 Abilità passiva Ogni attacco aumenta del 15% La velocità d'attacco di Kepregan Molto bene Ce l'abbiamo fatta Bene ragazzi Questo è quanto per oggi Like e subscribe Io e Diffy abbiamo ancora tanto da esplorare Di questo gioco E ci vediamo alla prossima Ciao Ciao What